La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo allora con il CEO dell'anno Innovazione Leadership Oil & Gas. Il premio va a Francesca La Stella di Lazz. Un bel applauso a Francesca La Stella per essere protagonista in particolare nel settore dell'oil and gas, ma anche nel mondo dell'impiantistica industriale, chimica e farmaceutica. Per il recente processo di crescita, l'attenzione alla qualità e l'inclusione, la tempestività e la sostenibilità ambientale e sociale. Tutto questo è Lazz. Capitanati da Francesca La Stella, che è CEO dell'anno Innovazione Leadership Oil & Gas. Complimenti! Questa sera siamo in compagnia di Francesca La Stella, amministratrice delegata di Lazz S.P.A., azienda specializzata nella realizzazione di impianti industriali e presidi fissi per gli stabilimenti chimici farmaceutici. Ci racconterebbe la storia della sua azienda? Allora, Lazz nasce nel 1976 da mio padre e comincia proprio nelle aziende chimiche farmaceutiche facendo interi impianti e di conseguenza tenendo presidi fissi per le varie manutenzioni. Negli anni 80, comprando il primo stabilimento, partiamo e ci buttiamo nell'oil and gas che ci permette sicuramente di fare un salto e di fatturato e di qualità. Nel frattempo entro in società io, entra dentro anche mia sorella e cominciamo a fare il nostro percorso e cominciamo effettivamente ad aumentare anche gli stabilimenti perché effettivamente il lavoro dell'oil and gas è stato abbastanza impegnativo, soprattutto da un punto di vista di qualità. Quindi abbiamo cominciato ad aumentare i nostri dipendenti, sia le maestranze che la parte tecnica. Ad oggi mio padre ovviamente è ancora presente in azienda, però ormai a 85 anni vorrebbe anche abbandonare e oggi abbiamo sette stabilimenti tra la Toscana e la Lombardia. Adesso facciamo anche tutti i trattamenti superficiali che sono la verniciatura, il decappaggio, tutte operazioni che comunque fanno parte della fornitura del piping per l'oil and gas. E continuiamo ovviamente con le nostre chimiche farmaceutiche. Oltre al mondo dell'impiantistica industriale, nella quale siete leader del settore, avete deciso di puntare anche su politiche di sostenibilità, sull'ambiente e sull'inclusività. Nel dettaglio quali strategie avete messo in capo? Allora, per quanto riguarda la sostenibilità, sì, è stato un progetto che ho voluto fortemente perché al di là del fatto che la nostra azienda come metalmeccanica non ha un impatto ambientale pesantissimo, però penso che nel nostro piccolo si debba fare qualcosa. Quindi abbiamo sicuramente cominciato con l'acquisto di un capannone e un fotovoltaico che va ad alimentare parte dell'energia utilizzata. Abbiamo messo una colonina elettrica, abbiamo cominciato ad acquistare mezzi strumentali elettrici e penso che lo faremo anche per tutti gli altri stabilimenti. Ci vuole un pochino di tempo ovviamente perché adesso il fotovoltaico è diventato diciamo di moda. Da un punto di vista di sostenibilità sociale abbiamo fatto dei workshop con i nostri dipendenti e abbiamo comunque valutato di portare avanti altri progetti come la parità di genere, che è molto difficile in metalmeccanica, non è assolutamente semplice però essendo donna sono abbastanza testarda e sono convinta di poterci arrivare. La certificazione dovrebbe arrivare entro l'anno, infatti stiamo già assumendo donne anche che lavorino in officina. Dopodiché tutta la parte del sociale ovviamente all'interno dei nostri territori cerchiamo di optare per azioni che vadano ovviamente a sostenere situazioni di un certo tipo, tipo il giardino per i disabili nel nostro paese piuttosto che una macchina giù in Toscana per portare avanti e indietro i disabili. Ci sono dei progetti già anche per l'anno futuro, anche a Natale invece che fare i soliti regali, panettone, bottiglio, che cercheremo comunque di aiutare delle associazioni che possano essere aiutate da questa sostenibilità. Sicuramente la parte più importante e dura da portare avanti sarà la parte della parità di genere, però stiamo andando su vari fronti, sarà sicuramente fondamentale aiutare e dare assistenza alla genitorialità, quello è fondamentale. Quindi stiamo già pensando a varie azioni concrete per poter dare un aiuto per la paternità e per la maternità, perché esistono tutte e due. Proprio come dice lei giustamente, siamo abituati a vedere una forte presenza maschile nel settore metalmeccanico e petrolchimico. Per questo è particolarmente bello e soddisfacente vedere una donna ai vertici dell'azienda. Lei ha mai incontrato qualche difficoltà e se sì, come le ha superate? Io ne ho incontrate tantissime dall'inizio, non solo con il capo, mio padre, che ovviamente essendo uomo di una certa età aveva un'idea diversa di quello che doveva essere colui che portava avanti l'azienda, ma anche soltanto con i miei collaboratori. È un mondo di uomini. Io ho dovuto veramente sgomitare per poter arrivare dove sono arrivata, per poter farmi ascoltare ed è una cosa che secondo me non è più accettabile. Certo è che in questo periodo mi aiuta il fatto che un po' tutto il mondo, soprattutto le multinazionali con cui abbiamo a che fare, tutto il mondo sta andando verso quella direzione. Quindi sicuramente è un momento proficuo e mi aiuta, anche perché comunque una donna, come lei ben sa, ha anche diritto a una vita privata. E tra gravidanze sono state abbastanza impegnative in un ambiente di questo tipo, perché bisognava correre al lavoro per non perdere le occasioni, per non perdere il passo. Però insomma sicuramente mi ha rafforzato questa cosa e mi ha ancora dato di più la consapevolezza di dove voglio andare. Questa sera l'Azza ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua posizione di eccellenza nel settore oil e gas. Cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? Oddio, per me qua è come essere in un sogno. Sicuramente avere questo premio, non me l'aspettavo e mai l'avrei pensato, perché io sono sempre cresciuta in maniera molto umile, non pensavo di dover essere premiata per quello che ho fatto, anche perché questa insomma è una situazione veramente che ti dà la possibilità di avere una visibilità a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, anche soltanto la possibilità di confrontarsi con altri imprenditori, altri professionisti, quindi sicuramente per me è un pregio enorme, enorme, non me l'aspettavo, lo ammetto, non me l'aspettavo.